Di galoppo il numero 11 Spartacus PDL. Sbaglia anche il 4, Spiriti Fox, lontano il 10, Snoopy, problemi per il 6, Rick, very nice. Diversi in rottura e allo stacco della macchina, Saving Race, contiene Sidio AS, ha sbagliato nelle retrovie anche Sissi la regina. Chiede strada Sidio AS, passa all'imbocco della prima curva. Il lancio completato in 14 per linee esterne Superpar, poi Serena Monta, Stella Griff più indietro, mentre sono diversi gli squalificati. Si va dopo 400 metri in 29,6 con Superpar che ottiene il via libera da Sidio AS. In terza posizione Saving Race precede Serena Monta, poi Stella Griff, Silphide e Getta a largo, Scidi e Cervocco. I primi 600 metri in 43,8, addirittura 14,1 sul mio cronometro per il terzo paletto. Il ritmo è davvero selettivo per la categoria Superpar. Affronta da chiaro leader la seconda curva, affilato da Sidio AS, poi Saving Race. Il mezzo miglio iniziale in 59,8, nonostante un parziale in 16. L'errore di Serena Monta che seguiva quarta lascia Stella Griff avanti a Scidi, Cervocco e Sara Simeoni a largo. Intanto il battistrada mette assieme mille metri sul piede dell'1,17,2,17,4 la frazione. Viene via Saving Race che stana Sirio AS, due vanno ad attaccare Superpar, mezzo giro dalla conclusione. Sirio AS e Saving Race che superano Superpar, poi Sara Simeoni, 16,6 la frazione. 34 scarsi il terzo quarto con Sirio AS che è passato in avvantaggio. Trascinandosi Saving Race, poi dal gruppo Sara Simeoni esce di Cervocco al lato di Superpar che ha speso il meglio quando i cavalli entrano in retta d'arrivo. Sirio AS in avvantaggio nei confronti di Saving Race, poi Sara Simeoni. Sirio AS conclude facile vincitore. Seconda Saving Race al terzo posto, Sara Simeoni. 2,6 il totale arriva Rotoloni, parziale al contrario, 32,1 ad arrivare, 1,18,7 la media al chilometro. Vince il numero 5, Sirio AS con Marcello Mangiapane. I colori della signora Baroni Benedetta, il training di Salvatore Cracolici, secondo il numero 2, Saving Race, terzo. E da seguire per la prossima il numero 12, Sara Simeoni, notizia di ottimo percorso generoso per le linee esterne. 5, 2, 12 l'arrivo ovviamente ufficioso della prima, vinta da Sirio AS con Marcello Mangiapane.